Musiamo posizionare la videocamera. Ciao a registrare. Musiamo posizionare la videocamera. Musiamo posizionare la videocamera. Musiamo posizionare la videocamera. Musiamo posizionare la videocamera. Musiamo posizionare la video. Musiamo posizionare la video. Musiamo posizionare la video. Musiamo posizionare la video. Musiamo posizionare la videocamera. Musiamo posizionare la video. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti